E' da tanto che voglio visitare la Sicilia. Mi è capitato un biglietto aereo ad un prezzo speciale ed ho due settimane di tempo da poter sfruttare, ma lo farò a modo mio, in bicicletta. Ovviamente in così pochi giorni potrò visitarne soltanto una parte. L'aereo atterrerà a Catania, quindi il mio punto di partenza sarà questo. Percorrerò la costa. Le zone che più mi interessano sono per lo più al sud, quindi ho deciso che il mio viaggio sarà da Catania a Palermo. 700 chilometri, solo andata. Buona visione! Ho quasi finito di smontare la bicicletta, la infilo nel cartone e domani si parte. 2. 6 giorni Atti che voglia, tutti i fondi iscritti. 2. 15 ore Un altro San Pietro di 178, 5 ore 12 ore 6 ore 7 ore Sono arrivato all'aeroporto di Catania, ho preso il mio bagaglio, adesso rimonto la bicicletta, sperando che tutto a posto e raggiungo il centro a 5 chilometri. C'è un traffico pazzesco, cominciavo bene, me lo aspettavo. Ci tengo a dire che i video di questo viaggio non saranno una semplice guida per turisti desiderosi di conoscere l'arte e la storia di questa regione, anche se saranno tanti posti importanti che andrò ad esplorare, ma un approccio del tutto personale, un viaggio interiore, un modo per mettermi alla prova, testare limiti mentali, fisici e di adattamento. Il mio obiettivo è soprattutto quello di accumulare esperienze e condividere le sensazioni che provo dei luoghi e delle persone che man mano andrò a conoscere. Questo è l'ingresso del mio ostello, si chiama City in Hostel. Un traffico incredibile, ho venuto la bicicletta, la potete mettere dentro e questa sera uscire a piedi. Vediamo almeno fuori. Sono praticamente a fianco al castello. forse. Forse Nancy, qui una vera napa. B budgets. FIONA bos� Grazie a tutti. 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 Un po' tutta così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci. Grazie a tutti. Ecco l'etna. Nei miei progetti c'era anche un'etna. Però poi ho optato per continuare subito. con la bicicletta con la bicicletta. con la bicicletta. oggi non so, oggi è abbastanza fresco. non mi aspettavo. con la bicicletta. con la bicicletta. con la bicicletta. e la bicicletta. con la bicicletta. la bicicletta. con la bicicletta. con la bicicletta. con la bicicletta. con la bicicletta.